Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento di iPhone Italia Hot News Settimana un po' meno ricca di notizie perché dopo l'evento Apple stiamo aspettando semplicemente che ci arrivino iPhone SE e iPad Pro da 9,7 pollici per recensirli Ma in attesa di questo abbiamo comunque un qualcosa di interessante di cui parlare e soprattutto di importanti sviluppi per quanto riguarda la questione Apple vs FBI Quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito Allora ragazzi partiamo subito con la notizia proprio di Apple vs FBI perché è quella un po' più intricata, è una questione che va avanti da un po' La mettiamo da parte perché probabilmente finirà qui o comunque non ci saranno più grandi sviluppi perché a quanto pare l'FBI è riuscita a sbloccare l'iPhone 5C al centro della vicenda senza richiedere l'intervento di Apple Sappiamo infatti che un giorno dopo l'evento del 21 marzo quindi il 22 marzo si doveva tenere l'udienza tra Apple e l'FBI per quanto riguarda questo problema Il tema che ormai viene portato avanti da diverse settimane ma il tutto è stato rimandato dall'FBI perché forse si diceva appunto gli investigatori avevano scoperto un metodo per sbloccare l'iPhone 5C al centro della vicenda senza l'aiuto di Apple Ebbene è stato così perché l'azienda che ha aiutato l'FBI è Cellbrit, un'azienda che fa questo di mestiere in sostanza e lo fa anche a prezzi piuttosto contenuti Quindi è possibile sbloccare un iPhone bloccato da, trovo il mio iPhone bloccato da iCloud ma chiaramente non è un qualcosa che possono fare tutti L'FBI l'ha fatto tramite questa azienda e appunto ora è arrivata la conferma ufficiale, veramente a pochi minuti dalla registrazione di questo video L'iPhone è stato sbloccato senza l'aiuto di Apple quindi adesso teoricamente l'FBI ha in mano tutto ciò che vuole, tutto ciò che voleva dall'inizio Non ha in mano però quel precedente che le avrebbe consentito di sbloccare tutti i telefoni che volesse a livello legale Chiaramente però adesso trovata la chiave, la soluzione tramite questa Cellbrit in ogni caso qualsiasi telefono finisse nelle mani dell'FBI, iPhone bloccato o meno Potrebbe essere del tutto accessibile per quanto riguarda insomma i dati al governo americano Bene quindi messa da parte questa vicenda che ormai sembra essere giunta ad una sua conclusione Parliamo adesso dei malware mobile che possono ricollegarsi a un discorso di sicurezza analizzato nella precedente notizia I malware su dispositivi mobile sono infatti in crescita nell'ultimo periodo Abbiamo diverse tipologie che stanno arrivando sugli smartphone Chiaramente gli smartphone Android restano quelli più vulnerabili per via della loro caratteristica open source In particolare il ceppo di malware che sta interessando più che altro i dispositivi mobile è HummingBed Che era un perfetto sconosciuto fino a poco tempo fa ma è stato scoperto dai ricercatori di Checkpoint E colpisce soprattutto appunto i dispositivi Android Introducendo in questi dispositivi un rootkit e in seguito app fraudolente e attività malevole come l'installazione di Keylogger e così via Tutto ciò quindi espone a rischi seri importanti gli utilizzatori Android Mentre ovviamente data la chiusura di iOS l'impossibilità di installare applicazioni con codice non firmato almeno senza jailbreak Questi malware non possono arrivare su iOS Quindi come ancora qualcuno di voi non l'ha capito Chiaramente il pro e il contro di iOS è proprio questo Una chiusura che chiaramente limita da un punto di vista della personalizzazione Delle applicazioni che possiamo installare Dalle fonti da cui possiamo trarre applicazioni ed installare sul dispositivo Insomma se tutto ciò ci limita da un'altra parte possiamo vedere il problema Dei malware molto molto più ridotto o tendenzialmente portato a zero Proprio grazie alla chiusura di iOS Al fatto che tutti i software devono passare da App Store Tranne le installazioni ad hoc e qualche installazione via web ma comunque controllata Quindi malware sì in ascesa per quanto riguarda il mondo mobile Ma se avete iOS potete stare più tranquilli E parlando sempre di sicurezza ma spostandoci in ambito Apple TV di quarta generazione Il team Pangulo aveva già annunciato un jailbreak per Apple TV di quarta generazione Ed ora è finalmente disponibile Si tratta però di un jailbreak prettamente per sviluppatori o per utenti esperti Perché? Perché sulla Apple TV di quarta generazione Anche dopo aver eseguito tutta l'operazione che comunque è già piuttosto complicata Non avrete sidia Avrete soltanto un collegamento SSH che vi consentirà di collegare il vostro Mac Il vostro PC alla Apple TV e di scambiare e caricare file su quest'ultima Chiaramente dovrete caricare file in un certo modo per renderli visionabili Per fare delle modifiche al software Ma è un jailbreak soprattutto pensato per consentire ai primi sviluppatori Che intenderanno sviluppare tweak per Apple TV di quarta generazione Di testarli e provarli e vederli già in esecuzione sull'Apple TV Per poi magari arrivare ad un rilascio finale del jailbreak con tanto di sidia Con tweak disponibili per modificare appunto l'aspetto e le funzionalità dell'Apple TV di quarta generazione Comunque abbiamo già pubblicato una guida su come fare il jailbreak È una guida piuttosto incasinata ragazzi ve lo dico subito Però se siete sviluppatori sicuramente non avrete problemi ad eseguire il jailbreak Una notizia molto interessante questa settimana riguardato Sony Perché Sony ha ufficializzato che seguirà le orme di Nintendo E rilascerà presto giochi per iOS e Android In particolare Sony ha formato proprio un nuovo team all'interno della sua stessa azienda Chiamato Forward Works Che si occuperà proprio di portare lo sviluppo di giochi Che solitamente magari troviamo su piattaforma Sony Sulle piattaforme iOS e Android Quindi per essere giocabili sia su smartphone che su tablet Parliamo ora di Imagination Technologies Che è un'azienda che collabora da anni con Apple Per quanto riguarda la fornitura, la produzione di GPU Che poi vengono utilizzate sia su iPhone che su iPad In particolare questa collaborazione è iniziata nel 2010 Con il chip A4, il primo chip di Apple A montare appunto una GPU prodotta da Imagination Technologies Adesso dopo diversi anni, dopo aver realizzato ancora una volta le GPU Per i chip A9 e A9X Imagination Technologies potrebbe essere acquisita da Apple Che così potrebbe prodursi internamente anche le GPU E utilizzarle appunto nei prossimi dispositivi Il problema è che questa azienda, Imagination Technologies Ha una capitalizzazione di mercato piuttosto elevata Parliamo di 850 milioni di dollari E quindi lo sforzo economico di Apple dovrebbe essere importante Per acquisire questo fornitore e renderlo parte integrante appunto di Apple stessa Adesso parliamo soprattutto di iPhone 7 ed SE E parliamo prima di iPhone 7 perché noi stiamo ancora aspettando chi arrivi in Italia In realtà i preordini sono già aperti, gli ordini sono già aperti Ma il dispositivo ci verrà consegnato tra qualche giorno Noi proveremo iPhone SE ma c'è chi negli Stati Uniti l'ha già provato In particolare sono uscite tante recensioni molto 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 positive Non ci sono state grandi lamentele su iPhone SE Hanno tutti detto che sicuramente non sarà un dispositivo che farà gola ai possessori di iPhone 6s O di 6s Plus addirittura Ma sarà un dispositivo aggiuntivo della line up Che consentirà ancora oggi di acquistare un dispositivo compatto da 4 pollici A tutte quelle persone che magari non hanno mani grandi O in generale non amano gli smartphone con display piuttosto grandi Il tutto con una dotazione hardware veramente ottima, eccellente, di ultima fascia E che verrà resa obsoleta probabilmente solo a settembre Quando arriverà iPhone 7 iPhone 7 che prima di parlare dei rumor concreti Un giornalista molto molto rispettato e molto filo Apple Molto vicino da sempre agli ambienti di Apple E' stato anche amico con Steve Jobs Questa volta non si è trattenuto Ha detto Walt Mossberg che qualcuno di voi sicuramente conoscerà L'iPhone 7 dovrà essere spettacolare Altrimenti sarà un fallimento Io ho anche ascoltato un podcast di questa persona su The Verge Adesso appunto lui fa parte di The Verge E le sue motivazioni erano piuttosto condivisibili In sostanza Apple non deve sprecare tempo Non deve con iPhone 7 ancora attendere che gli altri recuperino strada Perché strada da recuperare non ce n'è ancora molta Ormai tutti i sistemi operativi, tutti i produttori di smartphone si sono più o meno livellati Quindi con iPhone 7 secondo Mossberg e anche secondo me e credo secondo molti di voi Fatemelo sapere nei commenti se condividete questa impostazione del pensiero iPhone 7 non deve fare rinunce Deve essere tutto nuovo a partire dal software A partire dalle cose più banali come la batteria, il processore, lo schermo, la fotocamera Non ci devono essere rinunce abbastanza, permettetemelo, idiote Come non portare lo stabilizzatore ottico sul modello più piccolo E portarlo solo sul modello più grande Portare funzioni solo sul modello più grande e non portarle su quello più piccolo A patto che non ci sia un'impossibilità oggettiva di fare questo Quindi iPhone 7 non deve fare rinunce e deve stupire Su questo siamo tutti d'accordo Anche Walt Mossberg che è sempre stato molto critico in positivo nei confronti di Apple Ma questa volta appunto si schiera dalla parte, non dico degli haters Ma comunque si schiera dalla parte di alcune persone Che oggi magari acquisterebbero comunque Apple Ma vogliono e sperano di vedere qualcosa di più Passiamo quindi all'ultima notizia di questa settimana Che riguarda ancora una volta iPhone 7 E che probabilmente non farà felice il buon Walt Mossberg Perché l'analista Kuo Ming-Ci della KGI Securities Che solitamente ci prende con le sue previsioni Ha previsto che la vera rivoluzione per quanto riguarda l'iPhone Arriverà solo nel 2017 Quindi il 2016 potrebbe essere ancora una volta un anno di passaggio Con un iPhone 7 probabilmente non così interessante come lo vorrebbe Mossberg Perché? Perché Kuo parla proprio di una completa rivoluzione dell'iPhone Nel 2017 Quindi è difficile pensare che ci sia una rivoluzione nel 2016 Un'altra rivoluzione nel 2017 In ogni caso l'iPhone che potremmo chiamare 7S O insomma l'iPhone del 2017 Secondo Kuo avrà un rivestimento in vetro Sia sul fronte sia sul retro Quindi si torna un po' allo stile di iPhone 4 Monterà un display AMOLED E quindi qui sinceramente non mi piace tanto questa notizia Vedremo Ci saranno cornici frontali ridotte E grazie a questo Apple sarà in grado di proporre lo stesso dispositivo Nelle stesse dimensioni Ma con dimensione di schermo maggiorata Tant'è che il modello Plus potrebbe arrivare addirittura a 5,8 pollici Altra novità importante secondo Kuo potrebbe essere la ricarica wireless Mentre non si è parlato di impermeabilità Ma in generale va sottolineato che questi rumor Questi rumor dell'ultima ora di Kuo Vanno un po' a contraddire altri rumor che avevamo già sentito per iPhone 7 Per il 2016 Si parlava di ricarica wireless già quest'anno Tanto più che viene eliminato il connettore jack Si era parlato anche di impermeabilità quest'anno Tanto più che viene eliminato il connettore jack Magari vi starete chiedendo perché è importante la rimozione del jack Per queste due cose Per l'impermeabilità perché non entra acqua Per la ricarica wireless perché essendoci solo il connettore lightning Magari se tu vuoi ascoltare musica con la cuffietta lightning E ricaricare il telefono allo stesso tempo Lo ricarichi via wireless Ci potrebbe stare Però Kuo dice che la vera rivoluzione arriverà l'anno prossimo Abbiamo già visto in qualche puntata precedente di Hot News Alcuni leak di schematiche dell'iPhone 7 Che sembra effettivamente molto simile al 6S A differenza insomma L'unica differenza è la fotocamera posteriore Che potrebbe essere una doppia fotocamera O comunque presentare delle modifiche Staremo a vedere ragazzi Dopo l'estate che sta arrivando a passo rapido ormai Perché questa primavera è iniziata veramente bene Con dei bei climi già abbastanza caldi Dopo l'estate andremo tutti in vacanza Al ritorno si parlerà già pesantemente di iPhone 7 Perché? Perché saremo prossimi al rilascio E alla presentazione ovviamente Che avverrà a settembre Ma noi in tutti questi mesi Continueremo ad aggiornarvi con altre puntate come questa di Hot News Quindi se non l'avete già fatto Iscrivetevi al nostro canale Lasciate un like a questo video E un commento in cui mi fate sapere Quale notizia vi è piaciuta di più E noi ci risentiamo alla prossima Ciao a tutti da Andrea Cermone Per iPhoneItalia.com